Buongiorno, questo mese di novembre è stato un mese in cui gli unboxing si sono succeduti in maniera vorticosa. Un sacco di Kickstarter sono arrivati e altri ne sono in arrivo, quindi sarà un mese, anche quello di dicembre, carico di giochi. L'ultimo arrivato proprio questa mattina è Studiosi a sud del Tigri, che fa parte della nuova trilogia di Shane Phillips, quello che ha fatto la trilogia del Regno Occidentale e che ha fatto anche i Viandanti a sud del Tigri, in questa epopea che riguarda il mondo arabo dove c'è la zona del Tigri e dell'Eufrate, quindi si lavora, i nostri studiosi stanno lavorando nella traduzione di tutti i testi, le pergamene in ogni linguaggio, nella lingua araba. Questo sarà l'obiettivo dei nostri studiosi, cioè prendere il favore del califo avendo il laboratorio migliore dei studiosi di documenti di tutto il mondo. Quindi questo è il gioco, ormai l'abbiamo cominciato a conoscere, lo conosciamo bene, Shane Phillips che è il disegnatore di tutti questi giochi che arrivano uno dopo l'altro e questa è già la versione in italiano. Quindi la scatola è dello stesso sfondo giallo che abbiamo visto in Viaggiatore o Viandanti, questi sono i vari personaggi, vediamo il regolamento. Allora il regolamento speriamo sia tradotto bene, come al solito dietro abbiamo tutta l'iconografia che abbiamo imparato a conoscere e più o meno sono sempre gli stessi e questo secondo me è una cosa molto molto positiva perché ci immerge immediatamente in un mondo che non ci sembra così sconosciuto. Quindi questo è il regolamento, sono 27 pagine, quindi c'è tutta la panoramica del gioco, sempre lo stesso design, la stessa iconografia e c'è anche ovviamente la modalità in solitario. Quindi ci sono una, due, tre pagine per spiegare la modalità, quattro pagine, cinque pagine, wow! È una modalità, deve essere un automa che da quello che ho visto nei gameplay deve essere un automa molto molto simile a quello dei Viandanti. Sicuramente il packaging è assolutamente identico, questa è la plancia, questa verrà via perché qua ci sono tutte le varie, l'influenza positiva o negativa, questi sono i vari livelli di difficoltà, c'è il livello studente, il livello scribe, il livello professore, il livello studioso, sono le difficoltà iniziali che noi possiamo scegliere con tutto il setup iniziale, e questa è la plancia generale, diciamo così, dove ci sono tutti gli studiosi che verranno, anzi gli scribi che verranno utilizzati, c'è la lingua cinese, il sanscrito, il greco, l'ebraico, il persiano e il siriaco che devono essere trasdotti in arabo, questo è l'obiettivo. Questa è invece la plancia del giocatore, è una plancia molto minimal rispetto a delle plance che abbiamo visto, è lunga ma è presente 5, 7 slot delle carte, poi carte che possiamo mettere sotto, queste rappresentano le 4 azioni principali che noi possiamo fare, cioè possiamo assumere uno scriba, possiamo viaggiare, possiamo aumentare la nostra influenza nel tracciato dalla matematica, dalla, non mi ricordo gli altri, letteratura forse qualcos'altro, o possiamo tradurre un testo, queste sono le 4 azioni principali. Quindi abbiamo le nostre 4 schede classiche dei personaggi, abbiamo i sacchettini dei 4 colori, dei 4 personaggi, dei 3 colori? Ah no, 4, eccolo qua. I 4 sacchettini, vabbè la fattura non mi sembra straordinaria, è un po' un cotone quello che è, però non c'è scritto niente, qua ci verranno inseriti perché come il precedente anche questo è un pochino anche una gestione di dadi. Ci sono le classiche monete, sono un pelino diverse come artwork dalle altre, carino questo il gettone primo giocatore, tutta la marea, mi piace che adesso fanno tutti questi posti per poter mettere tutte le cose, questi sono i nostri lavoratori, sono diversi, sono di 4 colori diversi, ogni lavoratore ha una tipologia diversa di valore e ovviamente la miriade di dadi, sono dadi blu, dadi gialli, rossi, verdi, bianchi, alcuni sono di colore pieno, i colori base diciamo così, altri invece sono di quelli che sembrano simil trasparenti, vedete questo che è uno di quelli che sembra simil trasparente e sono gli arancioni, i porpora e i verdi perché in realtà questi sono la combinazione di tutti gli altri colori messi insieme, quindi c'è un gioco, c'è una come dire un'attività di dadi che noi dobbiamo fare molto molto interessante, cioè noi dobbiamo mettere ad esempio il dado blu e il dado giallo che sono colori primari formano il dado verde che avrà delle abilità, delle potenzialità. Poi abbiamo il classico oro che queste sono proprio classico è l'oro, abbiamo poi tutti i segnalini di punteggio che dovremmo far ruotare nelle varie aree, abbiamo le carte che sono le carte testo e le carte soprattutto queste che sono le carte che vedete daranno la possibilità di guadagnare punti secondo l'influenza, l'artwork ripeto è uguale, identico da credo Predoni di Scizia o da Riders forse prima ancora, queste sono tutte le carte scriva stessa misura, stessa qualità e queste sono le carte, eccola qui, questa è la traduttrice che è in grado di tradurre da cinese a siriaco con le sue abilità e i punti vittorie alla fine delle partite con l'influenza che può essere messa su di lei, voglio vedere la qualità ma immagino che la qualità sia esattamente uguale a quella di tutti i giochi che noi abbiamo visto, queste sono, eccole qua, qua ci sono tutte le azioni che noi possiamo fare, vedete tradurre, piazzare ori, ingaggiare un imperpete, consegnare un testo o l'effetto oro bonus, poi influenzare una pergamena, influenzare una gilta, scelta degli spazi califfo, riposare, conteggio finale, insomma ci sono tutte queste azioni, queste credo che siano le carte che noi possiamo utilizzare, sono le carte iniziali, dei bonus iniziali con il numero dei dadi con cui partiamo, quelli che dobbiamo pescare l'oro, le monete e un'abilità particolare diversa per personaggio, questi invece sono gli interpreti credo basi, quelli che sono vedete che sono un po' diversi nella loro forma posteriore, questi sono i migliori sul mercato e sono quelli che possono tradurre in maniera molto, da una lingua direttamente all'altro o più lingue, quindi sono certi di un certo valore, questi sono invece, li vedete che sono gli scrivani che sono abili, ad esempio dal siriaco all'arabo, dal persiano all'arabo, dal greco al siriaco, insomma dobbiamo cercare di mescolare ruoli, traduzioni, influenza nei vari settori con la nostra plancia che mi sembra essere discretamente grande, adesso vediamo se riesco a presentarvela, a farvela vedere, non ci sta nello schermo, dovrei alzare un po' lo schermo, ma questa è la plancia iniziale, quindi è abbastanza grande, qui ci sono gli 8 traduttori che noi possiamo assumere, qua ci sono i quattro round nel quale è diviso il gioco e alla fine di ogni round potremo prendere punteggi e guadagnare bonus, questi sono i tre tracciati del califo dove noi potremo mettere la nostra influenza, vi ricordate che c'era anche in viandanti, questi sono i tracciati che noi possiamo, mi sembra che sia la matematica, la fisica, la chimica, la cultura, scienza astronomica e non mi ricordo forse scienza della terra, cose del genere, questo è il tracciato delle carte, dei rotoli che noi potremo, delle pergamene che noi potremo acquisire girando intorno a questo tracciato e nella parte in basso ci sono tutti i personaggi, tutti i traduttori che noi potremo assumere, è una plancia decisamente grande che fa da contraltare alle plancette piccine picciò dei personaggi, ma la plancia di gioco, come sempre in questi giochi di Shane Phillips è sempre abbastanza grande. Questo è l'unboxing di questo gioco, non vedo l'ora di cominciare a provarlo, spero di riuscire a fare un video prestissimo tra l'arrivo di Sleeping Gods, Obsession, chi più ne ha più ne metta, insomma c'è un sacco di lavoro da fare. Questo è Studiosi a sud del Tigre, spero di riuscire a intavolarlo il prima possibile e mostrare come si gioca la partita in solitario, ma in realtà poi in solitario è un pochino anche il tutorial di come si gioca in generale, ovviamente sempre la Fever Games, grazie per aver visto fino a qui il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se volete sapere come si gioca a Studiosi. Buona giornata e alla prossima!